quest'anno sono 30 anni che faccio il cantautore anzi il cantastorie 30 anni di vita canzoni viaggi persone storie appunto e ogni sera durante le date di questi concerti qui sul palco dell'auditorio un parco della musica ennio muricone di roma incontro persone amici colleghi che per un motivo per l'altro per me sono state o sono importanti io sono daniele silvestri e questa è le cose che abbiamo in comune un video podcast targato fandango live signore e signori petra magoni buonasera allora tu non sai quasi dove sei capitata in questo momento sei capitata e lo siete anche voi in qualche modo da spettatori dentro un format che difficilmente si vede in un in uno spettacolo soprattutto musicale ma qui si tratta di chiacchierare per un attimo ma è un vero proprio podcast anche che ha perfino un titolo geniale le cose che abbiamo in conone veramente un sforzo 4.850 come minimo e ha anche una bellissima sigla che vorrei tu ascoltassi con attenzione sigla puoi dire sinceramente cosa ne pensi troppo corta no fa cagare questa è la verità però va bene anche troppo corta insomma di cose in comune un pochino se ne ha eh sì la prima immagine che abbiamo visto forse è quella che abbiamo in comune più grande ma adesso ne parliamo prima ho una domanda in realtà non te l'ho mai fatta perché petra lo sai c'è c'è una storia dietro c'è un motivo c'è un motivo i miei genitori per avere il primo figlio che sono io siamo tre fratelli ci hanno messo quattro anni non arrivava non arrivava non arrivava e aspettavano pietro mia mamma piaceva il nome pietro quindi quando sono nata io perché mia nonna chiese a mia madre e se non è se non è pietro e mia mamma disse allora sarà petra e per ora è un po' una battuta in realtà quando poi sono nata mia nonna telefona tutti dicendo è nata petra è nata petra ed ecco petra e sei contenta di questo moltissimo eh perché secondo me è un gran bel nome moltissimo perché petra magoni vuol dire materia nel nome ed emozione nel cognome hai capito? non sei male allora visto che sta partendo un applauso e tu hai parlato del fatto che ci sono voluti quattro anni quindi è stato anche abbastanza complicato hanno avuto problemi sì poi mio fratello è arrivato un anno dopo subito no mi viene il momento che oltre ad estendere se vi va questo applauso a tutte le persone incinte e ce n'è una anche in sala a quella persona in sala incinta fate un applauso più forte e dedicatelo anche la prima figlia Senna che non c'è più e poi le dedichiamo pure una canzone però già che c'eravamo questo lo dico perché mi sono andato anche a leggere un po' di cose non su di te quindi sono partito dal nome perché in realtà forse uno non se lo chiede mai però è una bella comodità perché appena digiti petra esci fuori subito tu qualche vantaggio ce l'ha poi a me piacciono i nomi di cinque lettere quindi anche i miei figli si chiamano Leone e Frida quindi cinque lettere quindi su questo palco ti piace Marco molto Gianluca ti fa schifo Daniele e Daniele ti fanno schifo Gabriele però ti piace solo Marco no no ti piace anche Piero anche Piero mi piace e mi sa che ti piace pure Ramon e beh come non amare Ramon e forse ti piace pure Duilio Du quasi dai lei fa una Du scegli una vocale sono tre vocali esatto lo chiamano comunque Duilio perché si sbaglia quindi ok Duilio quasi io chiuderei qui mi sembra che abbiamo detto tutte le cose importanti tutte? faccio tante a dire le sapevo un po' tutte anche andando a spulciare un po' meno il fatto che tu avessi iniziato anche molto con la parte diciamo di canti religiosi che hai fatto un discreto numero di esperienze che ti sei portata dietro però alla fine perché nelle cose che fai effettivamente sapendolo ci riconosco anche quello anche se adesso hai uno sguardo assassino però no no uno sguardo assassino allora per esempio io ho studiato canto gregoriano avete presente il canto gregoriano? ma anche nel senso e questa cosa che io ho studiato perché ho studiato all'istituto pontificio di musica sacra a Milano in realtà è una cosa che mi porto dietro nel mio progetto musica nuda dove ovviamente non è che facciamo il canto gregoriano però questa cosa di dare importanza alla parola al ritmo della parola è una cosa importante beh anche nella scelta stessa di avere un unico strumento peraltro un contrabbasso e mi lascia tutto lo spazio che voglio ti lascia tutto lo spazio interpretativo anche ma nei neomi o anche nella musica gregoriana dove il ritmo non è segnato non è indicato no è una domanda in realtà è anche di libera interpretazione quello cioè la lunghezza di una nota non è scritta quindi che vuol dire che quando cantavano poteva venire una volta una roba di quattro minuti un'altra di due la stessa questo non lo so perché non c'è ovviamente sono anziana ma non così tanto perché in realtà quando parliamo facciamo delle note per esempio Remetto Pascal che è questo grandissimo musicista che salutiamo che è in sala no brasiliano che io ho incontrato anche in un festival bellissimo Eilat in Israele lui ha fatto tantissime cose le trovate su YouTube dove mette magari degli spezzoni di film ce n'è uno per esempio con Ivo Ivo Livi Ivo Livi praticamente Hermeto Pascal metteva spezzoni di film quindi dove c'era il parlato e sul parlato lui risuonava le note che si fanno quando si parla che è una cosa bellissima a parte Hermeto Pascal ha fatto delle cose assurde tipo suonare la sua stessa barba cioè ha fatto delle cose veramente assurde io volevo tornare alle cose che abbiamo in comune mi rimandi un attimo quella serie di immagini che vuol dire quante ne vabbè la prima voi non potete conoscerla però è veramente per noi Antonella Bubba si chiama Antonella Bubba ed è stata la mia agente diciamo per un tanto tempo ed è tuttora la mia e la sua e noi ci siamo già vent'anni ci siamo conosciuti soprattutto per quello perché avevamo condiviso un sacco di di spazi e di presenze ci ho messo Pippo perché siamo passati tutti e due da lì te nel 96 la prima volta 96 e 97 però nel 97 c'era Mike buongiorno no Pippo nel 96 c'era Pippo aspetta Luca c'hai pure proprio il filmato di Pippo addirittura ho sentito molte cose e quando vede questi oggetti praticamente è come se lui fosse ancora presente come se lui ancora ci fosse Petra Magon una nuova proposta Petra Magoni applauso anche per i giovani e non soltanto per i campioni che linda dirige il maestro Gianfranco Romardi e Ciseo comunque Pippo dai via vai Pippo era veramente attentissimo stava veramente attento a fare a stare a suo agio tutti era sempre presente veramente ho un ricordo bellissimo e mi scelse io feci un provino per fare la corista in un suo programma e lui disse no tu non devi fare la corista tu devi fare Sanremo quindi a lui proprio? sì sì ammazza sì e mi mise poi in contatto con i produttori ma io in quel periodo ancora non avevo capito bene chi ero cosa facevo cosa volevo fare quindi in realtà per me Sanremo è stata un'esperienza molto divertente ma che non mi ha portato a nulla per me pure alla fine è stata divertente soprattutto la terza a volte ci sono andato ma della prima l'ho accennato quando abbiamo suonato la canzone l'uomo col megafono parliamo del 95 quando ebbi l'idea ovviamente come sempre e tu lo sai perché t'ho chiamato veramente all'ultimo istante come sempre anche in quel caso decisi all'ultimo istante che volevo scrivere questi cartelli e metterli davanti e farli vedere e tutti i discografici i produttori mi dicevano no ma non puoi farla sta cosa fu Baudo a vedermi con sta roba per terra che disegnavo e stavo pure un po' incavolato perché mi dicevano di no e mi disse ma che è questo voglio fare bellissimo fallo sicuramente e sempre lui tanti anni dopo nel 2002 fu d'accordo a farmi esibire con un ballerino in realtà un attore accanto quando facemmo Salirò probabilmente con qualcun altro non si sarebbe potuto fare perché non era previsto perché facemmo delle prove apposta ma quando una cosa gli piaceva andava dritto come poi stava sempre lì alle prove attentissimo a tutto a farti stare a tuo agio io ricordo veramente bello il terzo è un pianistucolo che mi sembra che conosciamo non mi ricordo ma bravino credo peraltro per inciso diciamolo che tua figlia è un spettacolo della natura Frida non so se vi è capitato di sentirla o vederla ma insomma è raro che un figlio o una figlia possano prendere veramente così tanto ha preso il meglio da me da lui che suona il piano da Dio e canta da Dio non solo da settembre vive da sola a Milano e questo è un grandissimo risultato mi dico brava perché insomma è stata è stata dura per me vederla andare via ce l'avevi sempre con te dopo appunto tutti quegli anni quando ci vedevamo nei vari concerti in giro era sempre con te Frida sempre con me poi appunto occuparsi di lei in tutti i sensi fino a tre anni fa neanche voleva lavarsi i cappelli da sola insomma e adesso vive da sola vola a Londra per la produzione del suo disco è veramente partita adesso in Sicilia per dei concerti lavora più di me in questo momento ma è vero che lei ha studiato il piano forte anche con gli spartiti Braille sì 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 lei a sette anni abbiamo trovato questo maestro non vedente a Lucca che che gli ha fatto fare un percorso classico con la musica in Braille la musica in Braille ovviamente appunto il bambino che studia pianoforte suona poi magari appunto rallenta guardandolo spartito invece con la musica in Braille ovviamente devi imparare la memoria e questo fatto di imparare la memoria mi ha fatto capire vedendo il primo saggio che ha fatto a sette anni quindi ha fatto una cosa anche semplice però precisa fatta bene infatti le lissi quel giorno guarda ho capito che siccome fai le cose a memoria puoi dare un'interpretazione più intensa anche quando fai una cosa semplice a sette anni e quindi sì e la musica in Braille è praticamente una descrizione dello spartito quindi non è una non è come vediamo noi il pentagramma con le note è come se qualcuno te lo raccontasse quindi tu in Braille leggi allora c'è questa nota in questo punto su questo rigo su questa ottava eccetera 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 quindi è una bella noia siccome lei c'è l'orecchio assoluto siccome è furbetta in realtà poi si scocciava a leggere la musica in Braille e ascoltava i pezzi su YouTube se li imparava a orecchio anche quelli classici si capisce che c'ha una formazione piuttosto ampia senti vabbè Rino ce l'ho messo tu non te lo puoi ricordare probabilmente perché in uno dei tanti tragitti fatti insieme ah è Rino ah cavolo non l'ho riconosciuto eh sì e ce l'ho messo perché in uno dei tanti tragitti fatti più o meno insieme dove Antonella Bubba ci portava ci siamo incontrati anche in un festival a Crotone brava a Crotone dedicato a Rino sì ce l'ho messo pure perché così ti posso confessare quello che successe quel giorno che è successo una stronzata ma ne succedevano tante anche perché eravamo piuttosto stupidi come siamo rimasti semplicemente successe che mentre ci avvicinavamo al posto in cui avremmo suonato qualcuno della band ha chiesto a qualcun altro della band ma chi altro c'è e la risposta non fu anzi no la risposta forse fu musica nuda e l'altro chi che è il nome diciamo della formazione musicale che ormai da tanti anni ha 21 con Ferruccio Spinetti che è il contrabassista in fondo anche contrabassista degli Avion Travel e questo ci riporta volendo anche a Peppe Servillo ma insomma in realtà musica nuda sono Magoni e Spinetti soltanto che quando il musicista chiese ma chi è che viene esattamente la risposta fu una cosa tipo Spinoni e Maghetti cioè un piccolo errore spesso lo chiamano Spinelli sì ma immagino ma questa cosa divenne per almeno un mese non abbiamo fatto altro che distorcere i vostri cognomi poi a seconda dell'argomento se parlavamo di abbigliamento diventavano calzoni e maglietti se c'era se parlavamo di calcio erano mazzoni e spalletti insomma una cosa senza fine e prima o poi volevo votare il sacco ci abbiamo in comune anche quella cosa al centro e poi smettiamo di parlare di questo che è la più recente di tutte sì quella perché in questo meraviglioso film di Paola Cortellesi abbiamo trovato ospitalità entrambi e nel tuo caso si può vedere perché a mio no perché non si può mai spoilerare anche se ormai credo che l'abbia visto l'intero globo lei continua a non volere e io rispetto far vedere la scena finale del film però la tua vediamo un pezzetto di questa scena dove nessuno ti giuro nessuno signore e signori Petra Magoni Sila abbiamo finito questo il format si è chiuso qua per adesso che si è chiuso che si è chiuso Grazie a tutti